Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Sud e in Cisareggello. In A12, in direzione Rosignano, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Bisa Centro. Sulla FIPILI, due chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 52-400 tra Ponte d'Era Ovest e Ponsacco e Ponte d'Era Est, in direzione Firenze. Sulla strada provinciale 53 San Domenico-Fiesole, senso unico alternato per restringimento della carreggiata a tratti saltuari tra i chilometri 0 e 2-400 nel comune di Fiesole dal 24 aprile al 5 maggio. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, fino al 2 maggio, senso unico invia perfetti ricasoli nel tratto tra Viale 11 Agosto e Via Famiglia Benini. Ed è tutto, buon viaggio!